Mincica la Serie D ha portata di mano, se domani si vince con la Pro Favara è chiaro che si mette un altro tassello importante per approdare in Serie Superiore. Sì, diciamo che domani è una partita importante, come tutte le altre del resto, ormai sono tutte delle finali, noi cercheremo di vincere a Favara così da mettere sicuramente un gran tassello per la Serie D. Domani si gioca sul campo neutro dedicato, è chiaro che lo stadio di Catesa sarà invaso da tifosi biancazzurri, tifosi biancazzurri che vi hanno sempre seguito e non hanno mai fatto mancare il loro apporto. Sì, sicuramente, speriamo che ne vengono in tanti, ma i tifosi sono stati fantastici di tutto il campionato e io li vorrei ringraziare per questo. Ma cosa temi della Pro Favara che è con l'acqua alla gola e dunque giocherà ora più che mai la partita della vita contro la capolista? Sicuramente loro si devono salvare, giustamente gli serviranno punti. Noi andremo lì come abbiamo sempre fatto, per vincere, non per altro. Il Gela ha imbattuto da ben 17 partite, è quasi un record ed è chiaro che bisogna continuare. Sicuramente dobbiamo continuare, ripeto, noi dobbiamo vincere per chiudere più presto il discorso della Serie D. Quando hai capito che il Gela poteva vincerlo questo campionato perché sostanzialmente poi lo sta vincendo? Sicuramente non c'è stato un momento ben preciso, noi siamo stati bravi ad essere continui, da mussumeli che non perdiamo, per questo siamo primi. Vincica domani, torna la gola? Speriamo, l'importante è vincere, come sempre. Noi andremo, l' célere. Speriamo, l'agruntzer. Grazie.